Ed eccoci qui, siamo alla Fiera di Roma, oggi è il 20 settembre 2014 con il signor Palladino Arnaldo, presidente del Kennet Club Colosseo, siamo al pomeriggio dei raduni, abbiamo avuto una grande affluenza sia di pubblico che di razze e oggi sono presenti circa 550 cani, tra l'altro ci sono state le Olimpiadi del Bulldog, un qualcosa di unico domani sarà l'Internazionale di Roma, la 72esima edizione con 1300 cani E abbiamo visto le Olimpiadi e hanno fatto delle corse? Hanno fatto delle corse cronometrate con visita veterinaria, il Bulldog è un cane un pochino grosso, un pochino in affanno la società di razza sta portando in selezione Poi ho visto che c'erano stati dei premi? Sì, l'ha un evento sportivo, sono stati tutti premiati, comunque domani ci sarà la lotta a Cacib per i vari campionati Vi segnalo questo bellissimo cane, una razza particolare, ha partecipato oggi su questo ring a Raduno in Fiera di Roma Ecco appunto, vediamo diversi ring, grigi, verdi, blu, quali razze principali hanno careggiato, lo possiamo dire? Certo, allora abbiamo avuto in fondo il raduno dei Bulldog, tutti i Bulldog Qui abbiamo avuto i Dalmata, abbiamo avuto i Norvegesi, c'è il raduno del CIRN, giù c'è il raduno della Compagnia C'è stato e sono stati presenti altri cani tra cui una particolarità E' stato fatto girare sul ring d'onore il barbone bicolore, che è una razza diciamo nuova o vecchia Però questo dovreste chiederlo al presidente del club Cani da Compagnia, che forse vi illustra meglio Dopo lo chiediamo, concludiamo, questo cane che razza è? Lo chiediamo all'allevatore Questo è un samoyedo, origine della Siberia, un cane da slitta di origine della Siberia Sono cani adattissimi per i bambini, non sono adatti per la guardia Inizialmente venivano usati per il traino e dalle mamme venivano lasciati a casa per accudire i bambini Attualmente loro vivono in casa, sono cani da compagnia E quindi chiudiamo con il signor Arnaldo, vogliamo fare una due battute di chiusura? Speriamo che domani sia come oggi, forse un pochino meno caldo Cani sempre splendidi, abbiamo delle razze nuove che arriveranno Tantissimi soggetti presenti, alcuni speciali Mi permetto di segnalare i 40 soggetti iscritti alla speciale Dogo Argentino Chiudo ringraziando lo sponsor, Farmina, chi ha collaborato con l'organizzazione E come vedete per la riuscita dell'evento Benissimo, grazie Roma e credo sia stato un grande successo e una grande affermazione Grazie, arrivederci Arrivederci, saluti a tutti Grazie a tutti